Il Comune di Erice ha già avviato i lavori per il ripristino della corretta reggimentazione delle acque meteoriche e per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione spenti. Sono alcuni dei lavori urgenti necessari e il costo, assieme agli altri, è già abbastanza alto, circa 200 mila euro. Si tratta dei danni causati specialmente dalle intense e violente precipitazioni che lunedì della settimana scorsa hanno causato disagi e messo a rischio l'incolumità pubblica e privata. Nelle aree di proprietà comunale e lungo la viabilità pubblica del territorio si sono verificati infatti numerosi allagamenti con conseguenti danni che hanno causato l'interruzione del transito di alcune strade, canali e condotte fognari ostruite da detriti e da manufatti frenati, nonché crolli di recinzioni, danni alle infrastrutture di alcuni impianti della pubblica illuminazione e danni ad alcune abitazioni private ed attività commerciali per rigurgiti con conseguente fuoriuscita di di Guamifognari. Questa prima stima non comprende affatto i danni ai privati. In merito il Comune sta predisponendo l'avviso per ottenere le relazioni da parte dei cittadini in modo da predisporre l'atto per la richiesta dello stato di calamità naturale, comprensivo ovviamente dei danni sia al pubblico che al privato. Nell'attesa il Comune ha predisposto il ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo tutte le potenziali situazioni di pericolo. I lavori interesseranno diversi posti del territorio comunale, sia del centro urbano di Casa Santa che di Erice Capoluogo, sia nelle frazioni di San Cusumano, a Pisso Lungo, a Napoli, a Ballata, dove le precipitazioni hanno avuto effetti più devastanti per il patrimonio pubblico. In particolare, a seguito dei sopralloghi effettuati, sono state riscontrate molteplici criticità, specialmente per quanto riguarda la massicciata e la pavimentazione stradale di Velta a Porta Trapani ad Erice, lungo la via Guglielmo Marconi ad intersezione con la via a Vecellio a Casa Santa, e questo a seguito del cedimento della sottostante copertura del canale Fognario. Poi c'è stato il crollo del muro di recinzione lungo la via Emilia, di fronte all'ingresso secondario del presso scolastico Gemellini Asta. Si sono verificati accumuli di detriti lungo le vie Pizzoroccazzo, la via Turno, la via Alete, il Belvedere San Nicola, in Contrada Pegno e in via del Melograno. La soletta di copertura del canale di Gronda adiacente alla via Pallogoto, in località San Cusmano, è di Velta in più punti. Poi c'è presenza di materiale di ostruzione lungo il canale di Scolo, delle acque meteoriche adiacente alla via Gaspere Fodale, sul lato nord, in Contrada Rigaretta, e nel canale Mucarta, in località Napola, che non permettono una corretta ed agevole regimentazione delle acca a causa del crollo delle pareti in calcestruzzo. Ed ancora, si è verificata l'ostruzione di alcune condotte fognarie con conseguenti rigurditi e danni ad abitazioni private ed esercizi commerciali per la fuoriuscita di liquami maledoranti. Gli impianti della pubblica illuminazione sono spenti in alcuni posti del territorio a causa del guasto di quadri elettrici e di alcuni pali diverti e tutto questo appunto ammonta a circa 200 mila Euro. Le opere previste sono limitate alla sola eliminazione dei danni subiti per il ripristino della corretta reggimentazione delle acque meteoriche e per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione spenti. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui. Tra poco tutte le altre notizie. Vi aspetto. Il XR soccorre una turista americana. Intervento congiunto di aeronautica e soccorso alpino per recuperare una donna statunitense caduta tra gli scogli a Castellammare del Golfo. Verifiche in corso per gli allagamenti. I sonde e appositi mezzi sono impegnati in questi giorni a Trapani per ispezionare ed eliminare occlusioni nelle condotte fognarie. Pellegrino crolla ma ce la fa. Continua il nostro viaggio sull'analisi del voto per il rinnovo del Parlamento regionale. In Forza Italia l'avvocato marsalese riesce a superare Scilla di appena 250 voti e viene rieletto. La messa nel bosco devastato dal fuoco. L'iniziativa del Masci di Trapani ieri a Bosco Scorace, l'ormai ex polmone verde distrutto dall'incendio dello scorso 18 di agosto. E poi lo sport. Ottimo esordio. La pala canestro Trapani si aggiudica. Il derby della prima giornata di campionato contro Agrigento finisce 78 a 74. L'esposto degli abitanti della via Vespri. Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi a Trapani un gruppo di cittadini, molti dei quali i componenti del comitato contrario alla realizzazione del sottopasso ferroviario tra la via Marsala e la via Virgilio, ha deciso di rivolgersi alla magistratura per sapere se vi siano delle responsabilità su quanto accaduto. Eccoci qui rientrati ancora insieme con le nostre notizie. Andiamo subito a Castellammare del Golfo, a Cala dei Sogni. Una donna infortunata sugli scogli è stata recuperata da un elicottero dell'82esimo centro Xara dell'aeronautica militare nel corso di un intervento congiunto con il soccorso alpino. Vediamo. Ieri pomeriggio un equipaggio dell'82esimo centro Xara del quindicesimo storno dell'aeronautica militare distanza Trapani ha effettuato il recupero di una donna statunitense infortunatosi sul sentiero per giungere alla Cala dei Sogni a Castellammare del Golfo. L'elicottero HH-139B dopo aver ricevuto l'ordine di missione dalla sala operativa di Poggio Renatico è decollato dall'aeroporto di Trapani poco prima delle 13.40 per imbarcare due tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia a Castellammare del Golfo. Successivamente l'elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento. Raggiunta la Cala dei Sogni in considerazione della zona particolarmente impervia, la donna è stata recuperata con barella tramite l'uso del verricello. Una volta a bordo, in sicurezza, l'infortunata è stata trasportata al campo sportivo di Castellammare del Golfo dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118. Terminato l'intervento, l'equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere la prontezza di allarme SAR e per predisporsi per un eventuale ulteriore intervento. L'82esimo centro è uno dei reparti del quindicesimo storm dell'aeronautica militare che garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l'anno senza soluzione di continuità. La ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà concorrendo inoltre ad attività di pubblico utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi gli equipaggi del quindicesimo storm hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il reparto ha acquisito la capacità AIB, antincendio boschivo, contribuendo alla prevenzione e alla lotta degli incendi in Sicilia. Dopo gli allegamenti dei giorni scorsi sono in corso a Trapani le verifiche al sistema delle condotte fognarie. Vediamo. Sonde e mezzi specifici stanno ispezionando il sottosuolo e il sistema delle condotte fognarie. Lo hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale di Trapani dopo gli ennesimi allagamenti alla città dopo la pioggia di venerdì. A riguardo Tranchida ha parlato di una decisione estrema e non più derogabile, spaccare anche le strade per eliminare occlusioni e tappi lungo le condotte. Mezzi specifici di autospurgo muniti di sonda, si legge in un comunicato stampa, continuano da giorni ad ispezionare il territorio centimetro per centimetro, visto che nonostante le principali caditoie fossero pulite, la città continua ad allagarsi. E nel corso del fine settimana, a seguito di disposizione del sindaco Tranchida, è stato stabilito di intensificare con ogni mezzo possibile i controlli in ragione di alcune riscontranze che facevano ipotizzare delle occlusioni anomale lungo la rete fognaria centrale. Ebbene, continua la nota dinamata dagli uffici di Palazzo Dalì, dopo la conferma da parte delle ditte impiegate che i tombini risultano per la stragrande maggioranza assolutamente puliti, è stato scoperto che a distanza di circa 50 metri dalle pompe di sollevamento di via Vespri, un tratto della rete era occluso a causa del cedimento del vecchio sistema fognario e su di esso si sta intervenendo. In via Marsala e fino all'impianto di via Tuni si è atteso che l'acqua non defluiva correttamente. L'esito della verifica della sonda in seno al canalone non ha rilevato particolari anomalie, motivo per il quale si procederà con video ispezione su tutto il tratto dello stesso canalone. Le verifiche stanno riguardando tutto l'impianto di smaltimento delle acque. Monitorate, hanno rimarcato ancora dall'esecutivo guidato dal sindaco Tranchida, anche le pompe di sollevamento di cappuccinelli, dove potrebbe esservi una depressione sulla condotta e non sui tombini, mentre funziona regolarmente l'impianto di piazza e cimitero, anche se per prudenza, si sta facendo pulire tutta la vasca, onde evitare spiacevoli occlusioni. Inoltre, con apposita ordinanza, è stato esteso il divieto di balneazione nella zona del pennello a mare, poiché sono stati aperti i vecchi scarichi a mare per far defluire le acque pluviali. I lavori di ispezione e controllo procederanno anche nei prossimi giorni, così come quelli di verifica puntuale su qualche tombino o calitoio otturata. Dopo i disagi causati dal maltempo, l'erogazione idrica a Trapani si avvia finalmente a tornare alla normalità. Per domani l'acqua è attesa nella zona nuova della città. Vediamo. I gravi allagamenti nei pozi di Bresciana, assieme al fango sopraggiunto, ieri non hanno consentito di erogare acqua nella zona nuova della città. Si è dunque stabilito di chiudere i serbatoi per rifornire oggi il centro storico. Inoltre, Sicilia Acqua non può erogare acqua a causa di infiltrazioni di fango presso la Dica Garzia, anche se conta di risolvere al più presto tutte le criticità per tornare a fornire 40 litri secondo alla città di Trapani. Non sono mancati nemmeno i distacchi di correntenelle, derivanti dalle scariche elettriche del temporale di venerdì scorso. La situazione dovrebbe dunque normalizzarsi in queste ore, già oggi al centro storico e domani nella zona nuova di Trapani. Ci fermiamo soltanto un attimo, vi aspetto qui. Pillegrino crolla ma ce la fa, continua il nostro viaggio sull'analisi del voto per il rinnovo del Parlamento regionale. In Forza Italia l'avvocato marsalese riesce a superare Scilla di 250 voti e viene rieletto. La messa nel bosco devastato dal fuoco, iniziativa del Masci di Trapani al Bosco Scorace, l'ormai ex polmone verde, distrutto dall'incendio dello scorso 18 agosto. E poi lo sport, ottimo esordio, la palacanestro Trapani si aggiudica il derby della prima giornata di campionato contro Agrigento, finisce 78 a 74. Continua il nostro viaggio nell'analisi del voto per il rinnovo del Parlamento regionale. In Forza Italia l'avvocato marsalese Stefano Pellegrino riesce a superare Scilla di 250 voti. Vediamo. Stefano Pellegrino riesce a tornare a Sala d'Ercole nonostante crolli di quasi 2000 preferenze nella sua città, risultando, comunque, il più votato a Marsala con 2.900 suffraggi, dopo i quasi 5.000 voti della scorsa tornata. L'avvocato penalista, stavolta, arriverà a 5.500 totali, riuscendo a superare Tony Scilla di soli 250 consensi contro i quasi 1.500 del 2017. Entrambi sono andati oggettivamente maluccio, almeno secondo molti commentatori politici che li davano fra i papabili per essere il più votato della provincia di Trapani. L'assessore regionale all'agricoltura, soprattutto, avrebbe perso la partita nella sua Mazzara. 1.600 preferenze sono state un risultato inaspettato, anche considerando il sovraffollamento di candidature, ben 12 a Mazzara del Vallo. In città, tuttavia, è nota la rottura dell'accordo politico sancito nei mesi scorsi col primo cittadino Salvatore Quinci. 10 giorni prima dell'apertura delle urne, invece, il colpo di scena. Viene revocato l'assessore forzista d'Angelo dalla Giunta e Scilla, da coordinatore provinciale del partito, dirama un comunicato stigmatizzando la scelta del sindaco, annunciando, va da sé, l'uscita dalla maggioranza di governo. Quinci ha avvitato il suo appoggio elettorale sul presidente del Consiglio Comunale Vito Gangitano, che risulterà, alla fine, il più votato dai concittadini con 2.700 preferenze. Potrebbe sintetizzarsi così la sconfitta di Scilla, al netto di altre micro letture in giro per il territorio. Quasi certamente, senza questa rottura, avrebbe superato il risultato del deputato uscente, già di per sé deludente, avendo ricevuto oltre 2.000 voti in meno della scorsa tornata. Praticamente quelli persi a Marsala. Pellegrino era la sua quarta candidatura. Anche lui, come una collega cittadina Locurto, le ha provate tutte per raggiungere Sala d'Ercole e freggiarsi del titolo di onorevole. Nell'ormai lontano 2008 ci provò proprio assieme all'ormai ex parlamentare marsalese nel listino dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. Nulla di fatto. Dopo un breve passaggio nei Demo Cristiani dell'Udc, il che la dice lunga per una figura che da sempre si professa socialista come da tradizione familiare, approda nel popolo della libertà e si scontra con Mimmo Fazio. Ancora una volta non riesce ad approdare a Palazzo dei Normanni, venendo surclassato dall'ex sindaco di Trapani che lo stacca di 3.000 voti, fermandosi a poco più di 3.200 preferenze. Nel 2017, a pochi mesi dalla fine del mandato, il sogno diventa realtà grazie alle dimissioni del deputato trapanese per la vicenda Mare Monstrum nell'operazione della procura di Palermo sulla Tangentopoli del Mare. A novembre dello stesso anno si candida in Forza Italia e finalmente ottiene un risultato pieno, primo fra gli azzurri. Domenica scorsa, infine, nuova discesa di consensi. Tuttavia è confermato grazie alla vicenda Mazzara. E adesso una notizia di cronaca. Finiscono in carcere due panteschi di 42 e 49 anni che nel dicembre dello scorso anno furono trovati in possesso di 138 kg di hashish. Vediamo. I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato due uomini di 42 e 29 anni in ottemperanza ad ordini di carcerazione per l'esecuzione penale emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. I due, condotti presso il carcere di Trapani, devono scontare condanne rispettivamente a due anni il primo e otto mesi il secondo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due furono arrestati in fragranza dai militari della stazione di Pantelleria nel dicembre del 2021 in possesso di oltre 138 kg di hashish suddivisi in oltre 1.300 panetti pronti per essere smerciati al di fuori dell'isola. Il valore che avrebbe fruttato la vendita dello stupefacente sarebbe stato superiore al milione di euro. All'epoca dell'operazione i due furono accolti con nove panetti di hashish del peso di un chilo ciascuno. I militari, osservando che ogni panetto era identificato con un luogo diverso, intuendo che potesse trattarsi di un campionario appartenente a un vero e proprio carico di droga, operarono una perquisizione in alcune abitazioni poco distanti nella disponibilità dei due, dove in un ripostiglio, nascosti all'interno di un trolli da viaggio, trovarono l'enorme quantità di hashish. Nell'operazione rimase coinvolta e indagata anche una donna, originaria del Settentrione, con minori responsabilità rispetto ai due. Celebrata ieri al Bosco Scorace, devastato dall'incendio dello scorso 18 agosto, una messa. L'iniziativa è stata promossa dalla Masce di Trapani, il movimento adulti scout cattolici italiani, aderendo al mese del creato proposto dal movimento Laudato Si. E ieri, nell'ambito della giornata dell'adulto scout, il cui tema proposto quest'anno è stato Ascolta la voce del creato, ha deciso di celebrare la messa in un luogo simbolo, al Bosco Scorace, a Busetto Palizzolo, devastato il 18 agosto scorso da un incendio. Alla celebrazione, presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Alberto Genovese, era presente anche il sindaco Roberto Maiorana e i funzionari della forestale. L'Eucaristia è stata celebrata su un altare costruito con i resti dei tronchi bruciati dal fuoco, spiega Silvio Virgilio, magister del Masci Trapani. Ai lati dell'altare, una croce anch'essa formata di tronchi bruciati, la tenda di Abramo, che il Masci usa come metafora del verbo. Vicino ai simboli della distruzione, un alberello, in parte bruciato ma ancora vivo, che ha rappresentato la rinascita e la speranza. Le offerte raccolte sono state donate all'Associazione Bosco Scorace, che le destinerà per rafforzare il sistema di prevenzione degli incendi attraverso l'ausilio di telecamere. Come ci ha indicato con le sue encicliche, Papa Francesco, Laudato Sia e Fratelli Tutti, ha detto nell'Omelia Genovese, l'umanità oggi è chiamata a vivere coerentemente nel suo pellegrinaggio sulla terra, sia la cura del fratello, sia quella del creato. Chi si prende cura dell'altro, si prende cura del creato e viceversa. Chi ha piccato l'incendio, sfregiando la natura, ha rimarcato Don Alberto, non ha solo oltraggiato la fraternità e la creazione, ma ha dimostrato di non avere rispetto neppure di se stesso. Chi ferisce la creazione, ferisce la propria umanità. Al termine della celebrazione, il Magister del Masci Trapani, Silvio Giglio, ha lanciato un appello. Non disarmiamo la sostenibilità. La preghiera per il tempo del creato 2022, recitata all'unisono, è la donazione di una piantina di alloro, che verrà piantumata nel bosco, hanno chiuso la giornata. Andiamo agli appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente. In diretta alle 20.45 di Replica a mezzanotte, torna Sporsu del lunedì. In studio con me è Fabio Tartamella, Vincenzo Guaiana, giocatore della Palacanestro Trapani, il coach dell'Handball Erich, Filiberto Cocuza, il presidente del Panathlon di Trapani, Roald Vento, ed il giornalista Francesco Tarantino. In tribunetta, spazio alla Pallamano Paceco. Poi invece alle 23 torna a Respubblica con il direttore Nicola Baldarotta, sarà suo ospite, il sindaco di Partanna Nicola Catania, neoeletto al Parlamento regionale. Adesso una breve pausa e poi, come sempre, lo sport. Eccoci con lo sport. Insomma, in questo fine settimana le maggiori realtà sportive della nostra città non hanno giocato, soltanto la Palacanestro. Ieri andate in scena per quanto riguarda il Trapani Calcio, come sapete, per l'indisponibilità dello stadio provinciale. Invece l'Handball Erich è per dare spazio alla Nazionale. Torniamo al calcio, perché sono già stati dichiarati gli arbitri della partita di città da Sant'Agata Trapani, che si giocherà il 5 ottobre, quindi mercoledì alle 15 allo stadio Biagio Fresina. Ad arbitrare l'incontro sarà Riccardo Leotta, 10 Reale. Saranno suoi assistenti Francesco Davide Bonaccorso di Catania e Manfredi Canale di Palermo. Ma intanto si è giocata la terza giornata del campionato di Serie D Gironei. Questi risultati, il Lamezzi ha battuto in casa la Cireale 1 a 2, Licata Catania 1 a 2, Santa Maria Cilento e Città Sant'Agata 0 a 3, Ragusa Locri 1 a 3, pareggiano 1 a 1 Reala Versa Cittanova e San Luca Mariglianese. Vince il Canicattì per 2 a 0 in casa della San Cataldese, 1 a 1 ancora Bibonese. Castrovillari è stata rinviata il 26 ottobre Trapani Paternò. È chiaro che la classifica, almeno per quanto riguarda il Trapani in questo momento ha un valore davvero esiguo. Intanto però sono a punteggio pieno Catania e Lamezzi a 9 punti, Reala Versa e Bibonese a 7, Locri, Città Sant'Agata e Canicattì a 6, Castrovillari a 4, Paternò, Ragusa e San Cataldese a 3, Città 9 e Mariglianese a 2, Trapani, San Luga e Cireale a 1, Licata e Santa Maria Cilento a 0. A proposito di risultati, andiamo a vedere la prima giornata del campionato di A2 del Gironei Verde e questi risultati. Casale Monferrato Latina 91 a 70, Urania Milano Cantù 70 a 85, Torino Stella Azzurra Roma 86 a 59, Vanoli Cremona Piacenza 90 a 87, Rieti l'altra Cremona, la Juvi 66 a 57, Trapani a Grigento 78 a 74. In questo turno ha riposato Treviglio. E proprio andiamo alla partita della Palacanestro Trapani, una vittoria all'esordio in campionato nel derby con Agrigento è finita a 78 a 74. Vediamo il servizio. Il pubblico delle grandi occasioni e meno male per la prima partita di campionato della Palacanestro Trapani che ieri al Palauriga ha ospitato Agrigento. Subito derby per questo decimo anno di A2 della squadra Granata del presidente Basciano. Una partita dal buon ritmo, magari non estremamente spettacolare, ma caratterizzata da sostanza. In panchina assente coach Cagnardi a causa di una vecchia squalifica. Al suo posto Cardelli. Una gara basata sul grande equilibrio che si è decisa nei minuti finali grazie alla difesa e due palle recuperate da Massone che hanno alla fine contato molto. Buon giro di palla e coinvolgimento nel gioco per i ragazzi di coach parente che hanno portato Massone a realizzare 17 punti. 13 per Sessuruku, 10 per Jenkins, Dienga e Romeo. Ci si aspetta certamente di più da Carter. Nota, bello vedere un palazzetto così pieno a sostegno della squadra della propria città. Ascoltiamo adesso il commento post gara di coach parente. Come tutte le prime partite di campionato, quasi tutte, con l'aggravante, non l'aggravante, che era un derby, quindi ancora di più emotivamente difficile contro una squadra che non ti lascia giocare, che è fisica, che è il reddice da una vittoria di un campionato e quindi mentalmente pronta a giocare partite toste fisicamente. Prendiamoci due punti. Credo che sia molto chiaro e lo spero che sia entrato nella testa dei miei ragazzi che c'è molto molto da lavorare. Credo che siamo un po' indietro sulla parte giocata, ma questo non mi preoccupa. Dobbiamo crescere assolutamente nella gestione dei momenti, perché lì forse la carta di identità si fa un po' pesare, ma non abbiamo tutto questo grande tempo per poter migliorare. Direi che quelle due palle rubate di Massone, per entrare nello specifico, ci hanno dato un po' di fiducia, però mi aspettavo che dopo quelle palle rubate facessimo due o tre difese importanti e invece sono andate al ferro bravi loro e è anche vero che hanno fatto un canestro in semi rovesciata con la palla sopra il ferro di Francis e poi siamo stati bravi a gestirlo. Dopo gli allargamenti del 26 settembre e soprattutto dopo l'ultimo di venerdì 30 settembre, alcuni abitanti della via Vespri hanno presentato un esposto presso la procura della Repubblica di Trapani. Vediamo il servizio dell'approfondimento di oggi. Alcuni abitanti della via Vespri, molti dei quali componenti il comitato contrario alla realizzazione del sottopasso ferroviario tra la via Marsala e la via Virgilio, hanno depositato un esposto presso la procura della Repubblica di Trapani per sapere se vi siano responsabilità per quanto accaduto alle loro abitazioni, in particolare riguardo l'allagamento del 30 settembre più di quello del 26, che gli abitanti di via Marsala e via Vespri collegano anche all'apertura di un varco realizzato da RFI sul muro di cinta di via Marsala per lavori di pulizia e sistemazione del sedime ferroviario. L'acqua ha invaso tutta l'area a nord dei binari penetrando nelle abitazioni dal retro e dai pavimenti, passando sotto le fondazioni, rendendo inabitabili le abitazioni e provocando danni alle murature. Inoltre si è formata una sorta di laghetto a cielo aperto tra la ferrovia e le abitazioni con acqua stagnante e maledorante. Chi ha subito tali danni, a tutela dei propri beni e del proprio legittimo interesse, non poteva fare altro che presentare un esposto alla procura, al sindaco, a RFI, al prefetto. Così sembra sia stato. Il comitato no sottopasso ferroviario, prevedendo quanto poteva accadere, mostrarono al sindaco in rete ferroviaria italiana le analoghe immagini del 13 settembre del 2020 e dettagliarono le loro argomentazioni in una petizione popolare sottoscritta da 625 firmatari. Il comitato sostiene, attraverso il suo consulente tecnico, ingegnere Piero Barbera, che se fosse stato già costruito il sottopasso, si sarebbe allagato fino al colmo con danni elevati, con tempi di ripristino lunghissimi, viabilità nel caos e, circostanza più allarmante, con possibili perdite di vita umane. Il comitato, sempre attraverso il suo consulente tecnico, ha espresso perplessità riguardo alla dichiarazione del sindaco Giaomo Tranchida di chiedere ulteriori chiarimenti a RFI circa la sicurezza del progetto e, se possibile, un intervento idraulico sul canale Scalabrino. Per l'ingegnere Barbera, se il sindaco ha chiesto adeguamenti a RFI, conferma che le criticità evidenziate dal comitato sono fondate. Quanto a interventi di RFI fuori dalla loro competenza, il comitato ci crede poco e ricorda che, anche facendo le migliori fognature al mondo, in via Marsale e via Virgilio, ci sono fondati elementi tecnico-scientifici che, proprio in quella zona, il sottopasso non andrebbe fatto. Risultando nel contempo inutile, perché non migliora la viabilità e dannoso perché espone a futuri problemi il comune di Trapini sia in ordine alla costosa manutenzione, sia per risarcimento dei danni alle cose e, per una eventuale, non sia mai, perdita di vita umana.